Alessandra! Oh, Lucia, ciao! Tutto bene? Tutto bene, a te? A me alla grande, tra l'altro oggi è il mio compleanno. Uh, è vero, cacchio, perdonami, mi era proprio sfuggito di mente. Grazie, ti va di fare un aperitivo insieme? Te lo offro io. Volentieri. Ok, andiamo. Uè, ciao, Martina. Ciao. Ma che hai? È successo qualcosa? No, no, niente, perché? E che ne so, ti vedo arrabbiata. E per quale ragione dovrei essere arrabbiata? E che ne so, dimmelo tu. Ma... Non hai dimenticato niente oggi? Oggi. Ah, mi avevi detto che dovevi andare dal parrucchiere, ti sei tagliato i capelli? No. Ti sei andata a fare le mani? No, ti ha scritto Luigi. Idiota, è il mio compleanno. Oddio, perdonami, mi è proprio sfuggito di mente. Alle ore 0000 di questa notte pensavo che tu fossi la prima a farmi gli auguri, hai capito? Una bella frase su Facebook, una nostra foto su Instagram e una dedica su WhatsApp, ma invece mi sono illusa, non sei più la mia amica. Aspetta. E mo come faccio? È una tragedia.